E' col destro! Che gollo! Colotto! Che gollo! Col destro! Mamma mia! Che gollo! L'intervallo della gara, Chalet Baku contro Brutali 0-0, andiamo a intervistare i giocatori in campo. Adesso andiamo da Chalet Baku. Mamma si! Pognome? Carmine Verde. Verde, 0-0, una partita molto chiusa. Forse stanno giocando meglio loro. Sì, stanno giocando meglio loro. Perché è un po' in attacco, non abbiamo molta profondità. Ma, avere un po' più di profondità in attacco, mentre qualche tiro, magari anche qualche gollo. C'è solo un po' cursa lì davanti? C'è solo qualcosa? Una sola volta andiamo davanti, però con il top, il cortile, non lo so. Va bene, cosa ci vuole nel secondo tempo? Secondo tempo ci vuole più profondità, probabilmente mettere i movi di Napoli un po' più avanti per dare una scelta maggiore alla squadra. Va bene, bocca a lupo. Andiamo dai giocatori brutali. Stanno discutendo tra di loro. Sei giocato bene? Sei giocato bene? Pognome? Eh? Pognome? Editto. Editto, 0-0 state giocando bene, state attaccando, però il cortile a Bessaro sta facendo anche tante parate. Sì, noi abbiamo iniziato benissimo, abbiamo avuto un paio di occasioni per segnare, solo che non ci siamo riusciti. Abbiamo sbagliato a porta avuta anche un tiro e purtroppo l'artista sta continuando. Ci vuole più cinismo nel secondo tempo? Sì, sì, dobbiamo essere pure più alti visti. Più alti visti davanti alla porta in modo tale che possiamo segnare. Va bene, bocca al lupo per la corsa. Siamo ancora due partite brutali contro Baku. Quartiera terminata 3-2 a favore dei Baku. Siamo qui con due milioni in campo. Partiamo da Esposito. Squadra sconfitta, tanti di rimporta, ma il portiere avversario ha fatto... Abbiamo fatto una bella parata, abbiamo fatto un paio di miracoli. Sì, abbiamo giocato bene, hanno giocato anche loro bene. Chiedo, Paolo, abbiamo sbagliato. Avete sbagliato, diciamo, piuttosto che anche sullo 0-0 vi siete buttati tutti in avanti, ma indorando, per uno contro uno, non stai dentro al portiere di campione. Ma va bene, ho fatto una partita molto nervosa, ci sono stati tre cartellini. Sì, vabbè, ci sta, ci sta. Ci può stare, si è sconfitta. Sì, anche perché comunque la classifica era buona. Comunque eravamo prima in classifica. Questa sconfitta, penso, stavamo rimasti sempre prima. No, lo so, le squadre che... No, va bene, siamo là. Siamo là, siamo prima. Ma è sempre lì sopra. Sì, sì. Mi fa benissimo. Siamo a Esposito. Ciao, Paolo. Ciao, Paolo. Complimenti a qua. Diamo anche buon scontri 20 euro dell'ottica. La grande partita è un gran primo tempo, soprattutto tuo, nella squadra un po' meno. Poi nel secondo tempo, negli ultimi dieci minuti, è uscito fuori Vocozza e diciamo si è riuscito a segnare. Sì, abbiamo avuto, sì, sì. Oggi il Baku era improvvisato, perché avevamo due membri esterni che hanno giocato per la prima volta a causa essenze. Marco Basile è infortunato. Emanuele D'Agnese è il capitano. E ci voce causano male problemi di salute. Quindi oggi era improvvisato il Baku, però nonostante tutto, essendo comunque gli amici, siamo riusciti a formare un gruppo e riuscire a vincere la puntata di media. Questi sono i tre punti fondamentali, la partita che dovevamo vincere. Dicevo, sì, dovete aver forzato vincere. Comunque è un amore, ma adesso vi faremo una dedicata a qualcuno a casa, perché sempre più buono. Proprio la solita pina, cosa devo dire. E poi ai nostri ragazzi che erano assenti oggi, è per voi ragazzi, veramente. C'eravate oggi, va bene. Ciao, ciao. Ciao ragazzi.